Il Lucera Calcio è uscito vittorioso per 2-1 dall'Amichevole con L'Orta Nuova che si è giocata giovedì pomeriggio al Comunale di Lucera. L'Orta Nuova è una squadra che milita in eccellenza, allenata da Antonio Ciurlia. Marcatori nel primo tempo Kenneth Mamane, la ripresa a pareggio firmato da Martino Curci e poi sul finale gol di Davide Simone per i Bianco Celesti. L'Amichevole proietta la squadra di Bertozzi alla gara di domenica contro la Virtus San Ferdinando, valida per la decima giornata del campionato di prima categoria Girone A. La squadra padrona di casa e a metà classifica 12 punti. Non sarà un incontro facile ma i Bianco Celesti sono motivati. Intanto si registra l'abbandono del Lucera da parte di Acquaviva e Stramaglia. A breve però nuovi arrivi in casa Bianco Celeste.